La Fonte Musica La Fonte Musica è un ensemble specializzato nella musica del tardo 300, inizio 400. E' una musica che è una follia da studiare, da eseguire, ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole un gruppo di persone molto motivato, unito. E mi sono molto fortunato che ho dei compagni che hanno voglia di fare questo repertorio che secondo noi ha un valore musicale straordinario. Ricco di raffinatezze, di colori, di atmosfere diverse, ultra sperimentale, molto aperto alla novità, per niente decadente come spesso è stato visto nel passato. L'autunno del Medioevo, tutte queste cose, noi lo vediamo esattamente all'opposto, cioè come un repertorio vitale, pieno di energia, di possibilità e che apre moltissimo verso il futuro. Sì, moltissime idee della Snova non verranno riprese nel futuro, ma tante altre lasceranno dei semi che si ritrovano anche molto più tardi. In particolare quello che mi tocca sempre è questa straordinaria varietà ritmica di questo repertorio, che comunica secondo noi molto molto bene col tempo attuale, e quindi che ha una relazione con i linguaggi di oggi. E forse la seconda cosa a pari merito è questa straordinaria capacità di creare melodie che hanno un valore in sé e autonomo in tutte le voci e che non obbediscono a leggi esterne alla melodia. E questo è un mondo molto affascinante. 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 E questo è un mondo molto affascinante.